A Proda su Italia 2 TV il nuovo programma di approfondimento giornalistico Giudicate Voi, condotto da Alfredo Mariani. Il programma affronta temi di attualità, economia, con particolare attenzione al sovraindebitamento e al contenzioso bancario-tributario. Il format torna a grande richiesta sugli schermi televisivi preceduto dalle fortunate edizioni trasmesse in streaming. Tante puntate per accompagnare i telespettatori nel variegato mondo dell'informazione. Ogni puntata sarà caratterizzata dal contributo di esperti professionisti per dibattere tematiche di attualità, giuridiche, tributarie, ma anche per parlare di salute e alimentazione. Ospite fisso, mattatore e provocatore di ogni puntata del talk show, Giuseppe Catapano, rettore dell'Accademia Auge, per stimolare il dibattito degli ospiti in studio. Da sempre con occhio clinico e sensibile, la redazione di Giudicate Voi accoglie argomenti e tematiche per avvicinarsi al pubblico ed ascoltare le richieste ponendosi quale mezzo mediatico per fornire soluzioni e anche per risolvere alcuni dubbi sull'argomento oggetto di puntata. Ospiti di Giudicate Voi, professionisti di diversi settori. L'appuntamento è da domani per ogni domenica alle ore 20.45 sulla nostra emittente al canale 179 del Digitale Terrestre. L'appuntamento è da domani per ogni domenica alle ore 20.45 sulla nostra emittente al canale 179 del Digitale Terrestre.